Presso la sede del Consolato Generale d'Italia a Londra, il Console Generale Domenico Bellantone ha tenuto un incontro con Nicky Aiken, rappresentante parlamentare per Westminster e vicepresidente del Partito Conservatore. Abbiamo avuto modo di parlare della nostra straordinaria comunità che abbiamo nel Regno Unito, ma anche nella gestione consolare del Consolato d'Italia a Londra. È una comunità che è forte e che continua comunque ancora oggi a crescere. Noi cresciamo i 25.000 nuovi italiani l'anno nel Regno Unito. L'incontro, organizzato dalla Corporate Senior Manager Stefania Signorelli e dallo stratega politico Cristian Vinante, ha sottolineato il legame tra Italia e il Regno Unito dopo la Brexit e di quanto Londra e Westminster siano tuttora aperti ad accogliere la comunità italiana ed europea. Le città di Londra e Westminster, la mia Costituzione, ha sempre benvenuto persone da tutto il mondo. E so che molti italiani hanno fatto la centrali Londra loro casa. Nonostante il dialogo tra il console generale e la parlamentare abbia affrontato anche tematiche come l'immigrazione in Italia, l'obiettivo centrale è rimasto fedele alla tutela della comunità italiana in UK. L'obiettivo è stabilire sinergie per continuare a supportare e sostenere la nostra comunità, studiare anche modi per creare delle sempre maggiori connessioni tra la comunità italiana e la comunità britannica e la comunità londinese. Non importa se ci siamo fuori o siamo membri dell'EU, le persone che vengono qui nel Regno Unito, vengono qui perché vogliono creare un business, vogliono creare una vita e questo è molto importante. Grazie a tutti.